Due giovani di 23 anni sono finiti con l'auto contro un pilastro di cemento dopo una festa di compleanno. Si tratta di un ragazzo e una ragazza che purtroppo sono morti sul colpo ed un terzo è rimasto ferito in modo grave. L'incidente stradale è avvenuto la scorsa notte a Rosarno. I giovani stavano percorrendo una strada del centro abitato a bordo di una Fiat 500 quando improvvisamente sono finiti contro il pilastro di cemento armato. Una delle vittime, si tratta della giovane, era la persona che aveva appena festeggiato il compleanno, il ferito e il cugino del conducente dell'auto. Sul luogo sono intervenuti i vigi del fuoco e di carabinieri insieme alla polizia locale e al personale del 118. Il giovane rimasto ferito è stato portato nel grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria dove è stato ricoverato con prognosi riservata. I tre giovani nel momento dell'incidente erano appena usciti da un locale dove avevano festeggiato il compleanno della ragazza 23enne che purtroppo è deceduta ed erano insieme ad un altro gruppo di amici.